Si è svolta domenica 24 settembre a Sperlinga la festa della Madonna del Mercede, di correnza molto sentita e partecipata nel piccolo centro dell'Ennese, tanto che il percorso che va dalla chiesa della Mercede fino alla chiesa madre è ricco di illuminazione artistica molto suggestiva. Le celebrazioni sono iniziate venerdì 22 settembre, dopo le 21. L'imponente e meravigliosa stato della Madonna è stata portata a spalla in processione dalla sua chiesa, che sorge ai piedi del castello, fino alla chiesa madre. Domenica, giorno della festa, nel pomeriggio alla processione solenne a cui ha partecipato la confraternia della Madonna della Mercede, la statua della Madonna risale al XIX secolo, fu commissionata dai confraterni della congregazione della Madonna della Mercede ad uno scultore palermitano di cui non si hanno notizie anagrafiche e venne portata a Sperlinga intorno al 1850. A rientro in chiesa madre è stata celebrata la Santa Messa e poi, dopo la conclusione della festa, con la salita della Madonna a spalla nella sua chiesa.